Io vivo per loro, faccio tutto per loro. Ci eravamo lasciati così, con un appello pieno di amore e dignità. Gli occhi e le parole di Giacomo hanno colpito dritto al cuore dei calabresi. In centinaia si sono fatti avanti per aiutare questo papà di Briatico, che abbandonato dalla moglie ha dovuto lasciare il suo lavoro per accudire i suoi due figli Vanessa, 11 anni, e Simone di 6. Dopo aver trasmesso il servizio, la nostra redazione è stata inondata da messaggi di incoraggiamento e offerte di aiuto. Semplici cittadini, amministratori, imprenditori e medici. Giacomo sei un grande uomo e papà, poi c'è Ilenia che scrive, abbiamo pensato di devolvere una parte dei soldi raccolti a lui. E ancora Sandra scrive, grande papà ti auguro di lottare sempre per i tuoi figli e di essere aiutato. Questi sono alcuni dei messaggi aggiunti nella nostra redazione, sulla nostra pagina Facebook. Una macchina della solidarietà che si è avviata spontanea, come possiamo fare per aiutare Giacomo? Ci avete domandato in tanti e così il nostro network, sempre vicino alla gente, ha deciso di avviare una raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe. Regaliamo un sorriso a papà Giacomo, questa è la raccolta fondi avviata dal nostro network. Sarà così possibile effettuare donazioni in modo semplice e trasparente. Cristina Iannuzzi per la Cineus 24